La montagna più alta rimane sempre dentro di noi. Walter Bonatti La montagna è il cammino. Cammino attraverso i sentieri in piano, ma soprattutto verso l'alto. Se la montagna poi è conosciuta, amica, senti di appartenergli. Il lago del Devero, che accompagna la strada verso il crampiolo. La baita, ma anche la chiesetta bianca in mezzo al paese che rende tutto un po' fiabesco. L'aria, il vento, porta con sé i profumi. La fragranza di crampiolo è come stare a braccia aperte in un prato di montagna a controvento. I profumi di legni, dei fiori, della genziana. Ogni vento ha un suo profumo. Porta quello che raccoglie il suo passaggio. Questo è quello che sentirete quando indosserete questo profumo.